Il debutto e anche la seconda replica sono andate proprio bene. In tournée. Il calcio va in trasferta. Il teatro va in tournée. Infatti noi siamo andati in tournée. Eeeh! Maldito va, malito sa che la vita si srotola Seguendo un pallone che rotola e tira sentendo si libero Tira davvero fortissimo Un tiro che non è importante sapere come va a finire e perché... Non si toccano gli strumenti, mi ha scattato! Non si toccano gli strumenti, non si toccano gli strumenti, non si toccano gli strumenti. E mi facciano gli strumenti e non le miro qui sia evidente di questo dal Qui è di inter alarminge, non si toccano gli strumenti e adorarono gli strumenti. Per quanto non è non d'ora quindi non ne metto in garanzia ma data... La film su cellulare è a causa portale e chi mi va quello in più E non ci want da ricevere il suo rumore Ч przykład